Scopri le vacanze dentali in Albania, un'opportunità unica per ritrovare il sorriso e risparmiare fino al 70%. Si apre a Roma il primo centro di ascolto per le cure dentali in Albania, grazie all'Agenzia Viaggio e VEDO. Rivolgiti all'Agenzia per organizzare il tuo viaggio e prenotare le tue cure dentali. Recupera il tuo sorriso con le vacanze dentali in Albania, risparmia i sorridi di nuovo. Chiama i 3, 2, 0, 46, 87, 503.